buongiorno a tutti eccoci qua pronti per la prossima avventura stiamo aspettando joe biden eccolo che arriva vediamo chi ci aspetta è passato direttamente è proprio l'americano abbiamo raggiunto quel cialtrone di joe biden che ormai è vecchietto non ce la fa più è diventato terentino è diventato un terentino non si ferma neanche più a salutare perché ormai ha in mente solo la prestazione eccolo qua giusto primo cambio di assetto abbiamo imboscato le bici nel bosco una lì fa se si vede e l'altra non si dice dov'è l'altra non si dice dov'è bella ieri ha deciso di farsi la barba così sembra donald noto per le sue performance nel mondo del porno eccolo qua il nostro john hall fai vedere il baffo no io preferisco donald donald ormai è storia vecchia adesso ti chiameremo joe biden non siamo passati di qua l'altra volta se invece arriviamo su comunque ma dobbiamo controllare la frase stavo risalendo un burrone perché abbiamo sbagliato strada bene così siamo quasi in cima al burrone eccoci qua appena arrivati in cima al burrone stanno arrivando gli altri ragazzi bene amici abbiamo la prima defiance della giornata pausa merda ce l'hai la carta c'è sempre la neve ti ricordo vai in pace avevo spazio eccoci qua siamo arrivati alla malga di smarano vediamo se ci danno una birra che dici ecco vediamo bimbo bimbo gg detto anche gg bimbo un panorama incredibile qua alla malga ce l'hai il birra è? un altro birraio ci vogliono solo tre ore e mezza da casa ogni cosa vuoi che sia c'è un app da approcci se arrivi sulla macchina ho perso il conto del numero di volte che abbiamo fatto il rail questo inverno è sempre bellissimo oh la la we get it ce l'abbiamo oh ragazzi cosa facciamo? facciamo come baglioni ragazzi scendiamo alla ah ma siamo siamo ad amblar ragazzi porca stiamo sbagliato scendiamo alla abbiamo sbagliato traccia completamente eccoci qua abbiamo rimesso mano alle biciclette e alessandro che ha un problema di scorrimento ma io sento vedo che la ruota gira quindi finché gira va benissimo ecco finalmente ci siamo ricongiunti john è arrivato anche lui ha fatto il fuoristrada qualsiasi cosa di evitare la strada stiamo camminando anche ho visto un scorso toilet dai prendiamo quella a un certo punto è iniziato a sciare sui rami molto bene ecco il degno finale la gitta si lo vuole l'ultima birra eccoci qua siamo alla fine del tour molto bene è stata una bella una bella gitta molto ghiaccio molta birra quindi è dato tutto bene evviva saluti e baci salutiamo baffo turi ciao 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 ciao